Il Lazio è una regione dell'Italia centrale con capoluogo Roma, confina a nord-ovest con la Toscana, a nord con l'Umbria, a nord-est con le Marche, a est con l'Abruzzo ed il Molise, a sud-est con la Campania, a ovest è bagnata dal mar Tirreno, al suo interno è presente la città del Vaticano. Il Lazio è una delle regioni più importanti d'Italia, anche a livello mondiale, per i suoi contenuti storici, artistici, archeologici, architettonici, religiosi e culturali. L'immenso patrimonio ospitato dalla sola città di Roma è uno fra i tanti motivi di interesse della regione. L'offerta turistica è quindi decisamente varia. Roma è la capitale d'Italia. È definita per antonomasia urbe e città eterna. La tradizione vuole che sia stata fondata da Romolo sul Colle Palatino il 21 aprile del 753 a.C. È stata la prima grande metropoli dell'umanità e il cuore di una delle più importanti civiltà antiche. Roma è l'unica città al mondo a ospitare al proprio interno un intero stato, l'enclave della città del Vaticano. Proprio per questo spesso viene definita capitale di due stati. I fori imperiali costituiscono una serie di piazze monumentali che furono edificate da vari imperatori nel cuore della città tra il 46 a.C. e il 113 d.C. ne è escluso il foro romano, ossia la vecchia piazza repubblicana, la cui prima sistemazione risale al VI secolo a.C., per secoli centro politico, religioso ed economico della città. All'interno dell'area, nella zona dei mercati di Traiano, sorge il Museo dei Fori Imperiali, il primo museo di architettura antica. Il territorio dello stato della città del Vaticano è un enclave del territorio della Repubblica Italiana, essendo inserito nel tessuto urbano della città di Roma. È il più piccolo stato indipendente del mondo, in termini sia di popolazione, sia di estensione territoriale. Nello stato vige un regime di monarchia assoluta elettiva, con a capo il papa della Chiesa Cattolica, che dal 13 marzo 2013 è Giorgio Mario Bergoglio, regnante con il nome di papa Francesco. Nel territorio dello stato della città del Vaticano, vi sono i musei vaticani, biblioteche, una radio, una casa editrice, banche e università. Vi sono anche diversi edifici sacri, alcuni di origine molto antica, come la Basilica di San Pietro o la Cappella Sistina, con i celebri affreschi di Michelangelo Buonarroti. Campo dei Fiori Campo dei Fiori è l'unica piazza storica di Roma, dove non è presente una chiesa. È un mercato storico e folcloristico di giorno, che diventa poi uno dei ritrovi notturni preferiti dai giovani. Per secoli il Campo dei Fiori è stato il principale palcoscenico delle esecuzioni pubbliche. Tra queste è passata alla storia, nel 1600, quella di Giordano Bruno, la cui statua domina il centro della piazza. Nelle immediate vicinanze ci sono vie storiche con botteghe tradizionali, che ancora oggi portano il nome degli artigiani che un tempo vi lavoravano, come Via dei Cappellari o Via dei Giubbonari. Roma conta una serie cospicua di università, sia pubbliche sia private, sia laiche sia religiose. La Sapienza, Università di Roma, è sicuramente la più frequentata ed è una delle più antiche università italiane, nata per volontà di Papa Bonifacio VIII. Con 129.500 iscritti, nel 2010, è la terza più grande università d'Europa e la 43esima al mondo per numero di iscritti. Fiera Roma è la sede fieristica nata dalla fusione tra EUR Congressi Roma e Fiera Roma per la gestione congiunta del Palazzo dei Congressi dell'EUR, del nuovo centro congressi e dei padiglioni della nuova Fiera di Roma, destinati a meeting e congressi. Inaugurata nell'aprile del 2006, rappresenta un polo espositivo tra i maggiori e più accreditati d'Europa. È una grande opera di architettura, firmata dall'architetto Tommaso Valle. Dispone di 14 padiglioni attrezzati con le più avanzate tecnologie e collegati tra loro da una passerella posta a 6 metri di altezza. Cinecittà è un complesso di teatri di posa di rilievo internazionale, situati lungo la via tuscolana. Costituisce il vertice dell'industria cinematografica italiana, ma è utilizzata anche per produzioni estere e televisive. A Cinecittà sono stati girati più di 3.000 film. Dei 90 film che hanno ricevuto una candidatura all'Oscar, 47 hanno vinto la prestigiosa statuetta. Vi hanno lavorato celebrità del calibro di Federico Pellini, Francis Forcopola, Lucchino Visconti, Martin Scorsese. Il Parco Nazionale del Circeo fu istituito nel 1934, al fine di tutelare gli ultimi resti delle paludi pontine, che venivano bonificate proprio in quegli anni. È una delle più antiche aree naturali protette d'Italia. Si estende lungo il tratto di litorale tra Anzio e Terracina. È l'unico parco nazionale italiano ed europeo a estendersi completamente in pianura e in un ambiente marino. Racchiude in sé un promontorio, un'isola, oltre 20 chilometri di dune che si affacciano sul mare, quattro laghi costieri, oltre 3.000 ettari di foresta, ma anche i centri storici di Sabaudia e San Felice, la villa di Domiziano e il borgo di Fogliano. La villa di Domiziano al Circeo è una villa appartenuta a Domiziano, situata nella zona del Circeo, al lago di Paola. L'area archeologica della villa comprende quanto finora è stato portato alla luce della residenza dell'imperatore Domiziano, con i suoi impianti termali, cisterne, una palestra, una piscina scoperta ed un piccolo teatro. La parte più interessante è costituita dalle opere di ingegneria idraulica. Il lago di Bracciano, un tempo chiamato Lago Sabatino, è di origine vulcanica ed è situato nel nord della provincia di Roma. È l'ottavo lago d'Italia per estensione. Il lago non presenta isole e ha un piccolo emissario, il fiume Arrone. Sulle sponde del lago sorgono tre città, Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. Il lago di Bracciano, assieme al lago di Martignano, è una popolare località turistica e balneare. Nel 1999 l'area è stata dichiarata parco regionale, con il nome di Parco regionale di Bracciano Martignano. Fiugi è una città in provincia di Frosinone. Sorge su una collina alle pendici dei Monti Ernici. Al di sotto, circondato dai boschi di castagni, si estende il moderno centro termale di Fiugi Terme, o Fiugi Fonte. Fiugi è infatti una delle più importanti stazioni termali d'Europa. Dopo Roma, è la città del Lazio che ha il maggior numero di posti letto in esercizi alberghieri ed extra alberghieri. Nella parte bassa della città, si trova il complesso termale, dove nella fonte di Bonifacio VIII e in quella anticolana, si raccolgono le acque oligominerali di Fiugi, particolarmente indicate per stimolare la funzionalità dei reni. Grazie al turismo termale, oggi Fiugi è anche un centro attrezzatissimo per il relax e lo sport. Grazie a tutti.